Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video voglio mostrarvi la posizione di uno gnomo che ho scoperto poco fa e con il quale è possibile interagire ma non restituisce niente. Quindi lascia presupporre che nelle prossime settimane sia in arrivo una sfida relativa agli gnomi. Ora, non so se la classica sfida trova lo gnomo in un punto specifico oppure trova determinati gnomi però ve lo mostro lo stesso, magari se poi diventa una sfida ovviamente farò un altro video ma conoscete già la posizione. Se non vado errato dovrebbe aggirarsi qua, adesso lo cerchiamo insieme su parco pacifico, nella parte alta qui di parco pacifico praticamente. Stavo giocando in rissa squadre e ho visto che tutti andavano da questo gnomo. Così mi sono avvicinato e effettivamente esce la possibilità di interagire ma non succede nulla quindi probabilmente arriverà come sfida nelle prossime settimane perché le sfide della settimana 7 sono state svelate a meno che Epic Games non decida di sostituire la sfida degli anelli che è sempre buggata con la sfida degli gnomi o si arriverà la prossima settimana o le prossime settimane non lo so. Però c'è da dire che lo gnomo effettivamente c'è e quindi è possibile interagire con lui, eccolo qua, però non succede niente. Cioè lo trovate facilmente è l'unico gnomo che ho trovato nei paraggi qui. Infatti se vi avvicinate e provate a interagire come potete vedere non succede praticamente nulla. Lo gnomo si trova qui, ve lo mostro. Magari potrebbe tornarvi utile nel caso in cui ci sia una sfida legata appunto allo gnomo o agli gnomi prossimamente.